Ho cominciato col conservatorio, dove fra gli altri diplomi ho preso anche un diploma in musica jazz e pensavo di fare musicista in realtà. Poi sono capitato in una scuola di recitazione di Gigi Proietti, lì ho visto Gigi che faceva la regia delle scene con i ragazzi e sono stato colto da una specie di raggio di luce che mi ha illuminato e ho deciso che avrei fatto quello. Quindi in realtà poi ho lasciato la musica per almeno 30 anni. E mi ci sono riavvicinato a 45 anni, dopo aver acquisito un po' di continuità nel lavoro di regista, ho detto ma io in fondo sono anche musicista e incoraggiato da alcune persone, tra cui Ennio Morricone, ho ricominciato a comporre cose per me, poi ho composto anche per robe per un film altrui. E quindi ecco che si sono riavvicinate due strade che però per parecchio tempo erano o l'una o l'altra. E tra l'altro lei è stato anche assistente di Sergio Leone, c'era una volta in America, che esperienza è stata e cosa ricorda di questa esperienza? Di calma, di cose fatte bene e poi di tanti capitali, perché lui ne aveva veramente tanti a disposizione. Una nomination alle Oscar? Sì, una nomination alle Oscar con un cortometraggio. Tra l'altro ero, in quell'anno era nominato anche il maestro Morricone, che ho conosciuto anche prima e l'ho rincontrato dopo, perché poi ci ho fatto sei film con Morricone e quindi, beh sì, sono quegli incidenti che capitano. Beh, incidenti non lo definirai proprio un incidente, è vero, però capitano a pochi, non capitano a tanti. Guardi, il successo è sempre un incidente, perché nel nostro campo sono tali e tante le alchimie, le coincidenze, le, come si dice, gli allineamenti planetari che devono accadere per far sì che una cosa abbia successo. Perché il successo non è mai, mai, solo il risultato dell'impegno e del talento, anche grandissimo impegno, grandissimo talento di una persona. Tante cose devono concorrere, per questo dico è un incidente. Ci vuole anche una certa dosi di fortuna, però in partenza il talento ci deve essere. Sì, sì, no, certo, se non hai niente da dire non viene fuori niente, però certe volte a parità di impegno e di talento le cose non hanno successo e non te la puoi prendere con nessuno, semplicemente perché è mancato quel soffio degli dei nelle tue vele, ecco, mettiamola così. Ma lei adesso preferisce fare il compositore? Allora, io adesso in realtà ho ripreso anche a suonare, nel senso che ho un quintetto swing con cui mi esibisco in varie città d'Italia, però faccio il mio mestiere, nel senso che narro la vita di alcuni grandi compositori, uno dei quali l'ho conosciuto personalmente, cioè Morricone, ma anche Gershwin, Porter, Jobin, eseguendo i loro pezzi e raccontando ciò che li ha animati, ciò che ha causato quel tipo di composizione. Quindi questa cosa mi diverte. Poi faccio dei film per vivere e faccio le colonne sonore di film e anche di teatro, sia per film miei che per spettacoli altrui, e mi diverte tutte e due e in questo momento onestamente non saprei scegliere. Grazie a tutti.